Salve a tutti, per farmi perdonare per la mia enorme stratosferica assenza sul tubo italiano ho deciso di fare questo piccolo montaggio racchiudendo i momenti più divertenti a vedere utili i miei video e quelli del canale Gamebox che era un piccolo canale che in passato utilizzavo per fare video con dei miei amici che adesso è caduto nella mia attività più assoluta vedete il video fino alla fine perché è veramente divertente e detto questo buona visione e va a cagare cioè ma tipo mi pare normale che io con questo qua mi ucciso con un colpo di padella mette con due colpi di sparo e mi riuscivo ad ammazzare uno tipo io non lo so com'è ora iniziamo adesso è il padre adesso è il padre ah non è l'exit dai 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 attenzione questo video contiene alcune parole che potete aiutare la sensibilità altrui quindi se proprio volete vederlo vedetelo da soli senza la presenza di genitore o senza adulta oppure donateli alcune cucchiette quando toccherai durante? guardate quanto è sexy oh you touch my ta la la nooo 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 oggi sta capolanno sembra eh di essere in iraq perchè ogni volta ogni 2 minuti scoppiano delle bombe e il tuo il tutto rende più figo auguri merda come l'ho detto come l'ho detto ah e sono anche penultimo e siamo a notare che siamo sei contro più di sei probabilmente eh 60 39 grazie al cacchio siamo in sei con 12.000 andiamo a vedere aprire questa ehi che bella stanza tutta vuota e ora lì vai via il caffè non lo voglio che altro c'è da dire su questo posto meraviglioso non lo so vabbè meraviglioso raga io non la faccio una forza una cosa più stupida nooo perchè allora il tuo bicchiere addio ma che fatto ma strucco ma strucco ma strucco poi se ci aggiungono anche l'adversario che fa lo strucco tutto te è normale che ti fa imbessalire la maggior parte dei casi il telefono vuole dalla finestra curva la macchina comunque ragazzi hai finito di parlare? yes comunque ragazzi comunque ragazzi io ho dotato una tecnica di combattimento che in questi casi in questi casi comunque ragazzi adesso è il mio turno speriamo di sopravvivere di più delle volte che sono stato mister mister grey e ti ricordano che cosa ahahah quello ti spi lei ti è il mio luogo ok lei ti vuole fare il caffè no voglio il caffè ah c'è la transiglia andiamo fino a qui oddio ho sentito di rumori scatto nooo nooo 1-0 forse si è resistito fino al 25 dai ehhh io ho un attimo di tutta che cazzo stavano facendo questo 3-2 perdi i 40 trofei e quella volta per beffarti dice bella giocata e in questi casi la reazione del giocatore meglio è la seguente porco 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 quello la fa la brutta fine secondo me 2-3 2-3 fa la brutta fine 2-3 2-3 ma la è grande 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 la casa è un po' cresciuta torcia dall'ultimo episodio è decinesi sta casa no è made in italy dalle mie mani ragazzi la situazione è stata un po' di merda perchè io sto perdendo 2-3 gol di sasso come dire ehhh roma contro portocamone lei come sta fanno un gol no se mi provo la tablet e allora questo tablet farò la brutta fine secondo me ehhh salve a tutti i ragazzi venuti in questo nuovo video scusate se sto parlando con la voce bassa ma stiamo porca poca 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 ho comunque siamo con il nostro picco fedele cricksy 11 oè dico a cosa ehm allora Army Fighter è un ragazzo singolo che cerca il ragazzo per chi forse interessato chiamasse al numero aspetta aspetta voi lo vedo ti lasciamo i linki descrizione più tardi Aspetta, premi un attimo start Uno, due, tre, quattro, cinque Cinque ammoniti e un espulso, ragazzo No, 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 gli occhi dai gli occhi Ah, un po' secco Ah, ah 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 No, 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 no Ti ripassi Porca troppo È un fail Aspetta, aspetta, aspetta Honeymoon Lo dico, giociamo il titolo Andiamo a lungomarita, amorici, li inseguono Porca giuro Oh, sto risciampando Aiuto Non sei nessuno Gira di Porca giuro, raga Ci schifo Oh Oh Ciao Oh Che cacchio vuole fargli? Ah 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 Non mipiscia la luba Non mi tutaj faccia la luba Non ti tocca... La barba Stai citto Che hanno preparato? No sto Ma stai che lo stanno preparando No sto, registro Ah 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 ahahah Oh 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 Non si arrendono Non sono contenti Se non fanno esplodere una macchina Non sono contenti Dovete capire un po' Non si arrendono Ero morinto Ho la chiave Dai Io mi chiedo cosa succede se vinciamo Ma questa è semplice Ma quella è difficile Bene ragazzi 5-0 A finale giocata realmente Tra tutti i nostri ciali Che scorrono E dentro questo ragazzi Mi piace E per questo ci vediamo al prossimo video Sto fumando Cush così non penso a te Scroppi pare in testa Dai ti prego lascia perdere Lascia perdere Compro questi fiori colorati A posto del joke Vedo solo caramelle Alle amiche della gang Ho più scarpe di una droia Quando ho freddo una pelliccia rosa Baby siamo delle rock star Ciao 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 Ciao